Covid-19 in Sicilia, 332 nuovi positivi, vittime 21, guariti 628, Siracusa 16 casi. Nel territorio siciliano calano i contagi, nelle ultime 24 ore sono registrati 332 nuovi positivi su 18.637 tamponi processati e una incidenza di 1,7%, il tasso più basso rispetto a ieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. Gli attualmente positivi sono 34.549 con una diminuzione di 317 casi rispetto a ieri, i guariti sono 628. Nella rete dei contagi delle province, Palermo 110 casi, Catania 110, Messina 51, Caltanessetta 19, Siracusa 16, Enna 10, Trapani 9, Ragusa 5, Agrigento 2. Negli ospedali aumentano i ricoveri 1.215 in più rispetto a ieri, il dato dei ricoveri in terapia intensiva non cambia, 165 come ieri. La Sicilia resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi. Nel Paese, nelle ultime 24 ore, sono registrati 7351 nuovi casi, ieri 11.068 di coronavirus e 258 vittime, ieri 221. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull'epidemia di Covid-19 in Italia. I tamponi processati sono stati 179.278, ieri circa 205.000, per cui il totale è salito a 2.729.223, quindi il tasso di positività è del 4,1%, ieri è stato del 5,38. In totale i nuovi casi all'inizio della pandemia sono 2.729.223, mentre il totale dei decessi è salito a 93.835. I dimessi guariti sono stati 11.771, quindi il totale è ora di 2.237.290, quindi gli attualmente positivi sono scesi a 398.098. Salgono però i numeri dei ricoverati, 70 in più, totale 20.604 e delle terapie intensive occupate, 4 in più, totale 2.098.